Sovradimensionato e dalla gestione troppo onerosa per il comune, il palazzetto dello sport che dovrebbe sorgere a Clusone nell'ambito di uno dei progetti integrati approvati recentemente dalla maggioranza consigliare. È il frutto di un accordo tra pubblico e privato, un accordo previsto dalla legge regionale numero 12 del 2005 che prevede che la concertazione pubblico-privato possa portare in aggiunta, ovviamente perché il privato non regala nulla ma in aggiunta a una edificazione già preesistente, il privato possa mettere a disposizione del comune delle opere pubbliche. L'opera pubblica in oggetto, quindi quello che io preferisco chiamare palazzotto per le sue dimensioni, poi magari entriamo nel merito, è il frutto di tre piani integrati. Il piano integrato Collina San Giorgio, il piano integrato Mirage e il piano integrato Via Valflesch ex Boziolina, tanto per intenderci. I tre operatori mettono a disposizione 4 milioni e 500 mila per la costruzione di quello che sarà il nuovo palazzetto dello sport, perché io lo chiamo palazzotto, perché è un palazzo dello sport a 1.500 posti e sedere più il parterre, quindi dimensionato sicuramente per una comunità diversa da quella di Clusone o dell'Alta Valle, per grandi manifestazioni, avrei preferito un palazzetto più leggero. Nel mirino del consigliere Moioli anche il costo eccessivo che la futura gestione di un impianto del genere verrebbe a rappresentare, nonché le eccessive concessioni che a suo parere sono state fatte agli imprenditori privati. I costi di gestione di un palazzotto come quello impegneranno notevolmente la comunità di Clusone per tutto il tempo che verrà, ma c'è un ragionamento a monte, è che i 4 milioni e mezzo per questo palazzotto sono il frutto di concessioni sicuramente molto onerose, perché questi piani integrati io non sono pregiudizialmente contrario, ma a questi ho dovuto esprimere, io malgrado la mia opposizione, perché questi hanno una invasività sul territorio che sicuramente la comunità di Clusone sperimenterà nei prossimi anni.